E quindi continuiamo con la nostra trasmissione, continuiamo con un po' le notizie, sono un attimo distratto perché appunto non essendoci il buon Masieri devo riuscire a gestire anche la regia video e quindi adesso potete vederci anche in diretta su Milano All News, potete vederci sul canale YouTube, sul canale Twitch, sul sito internet, anche su Facebook e soprattutto tornare poi dopo la diretta nel giro di pochi minuti, qualche mezz'oretta, rivedere e riascoltare tutto quello che è stato la nostra trasmissione oppure i nostri ospiti e oggi appunto è martedì e quindi avremo Walter Cherubini qui presente nei nostri studi più tardi per parlare di periferie, periferie urbane, periferie non degradate ma anzi come risorsa fondamentale per le nostre città, questo è un po' quello che cerchiamo di fare tutte le settimane insieme a Walter della consulta periferie Milano. Si è parlato però anche del tema sicurezza in questi giorni, lo ricordate no? Ieri il vigile Noir Casalegno che dice era mattino, lui mi ha sputato addosso, diceva così nel video che ha fatto, risponde alla provocazione che molti stanno facendo questo binomio Milano e Gotham City, viene portato avanti questo esempio un po' da chi dice che Milano non è sicura, quindi dice che è Gotham City, invece Eleonora Casalegno risponde no Milano non è Gotham City ma perché non abbiamo Batman. Ecco insomma, sta di fatto che una bella intervista, bella lunga sul Corriere della Sera alla Showgirl, no? La conduttrice TV, anzi è la conduttrice TV, Eleonora Casalegno e non so, si parla un po' di tutto in realtà, quindi sembra un po' che grazie a questo video sia tornata un po' in auge, lei abita dice tra Porta Romana e il luogo dove è successo il fatto, quindi non si capisce bene comunque, insomma zona abbastanza centrale e quindi anche qui si sfatta il mito diciamo della periferia, luogo pericoloso, luogo dove succedono i fatti in realtà succedono anche in centro oppure succedono solo, e c'è un po' di polemica anche su questo, davanti alle telecamere dei vari influencer o simili, ma però non andiamo avanti, so che non si dice ma però ma in questo caso lo posso dire, andiamo avanti e facciamo fin di niente, anzi lasciamo lavorare chi di dovere che forse è meglio. Come sul lavoro si può invece trovarsi prestissimo e appunto c'è chi al 33178 53555 ci dice che invece ci ascolta e si si dice buongiorno Fabio, io ascolto i primi minuti fino alle 7.50 all'incirca e mi piace molto la sigla con la canzone dei Beatles, ecco Tania, ecco Tania non dirlo a la CIA, che è un pezzettino, si può fare, si può fare, no no non diciamolo a Paul McCartney che poi mi viene a chiedere i diritti per la canzone però no, sì c'è un pezzettino di Beatles ma tante altre pezzettini, c'erano pezzi presi da film, insomma abbiamo fatto un bel lavoro qualche anno fa con la nostra sigla di Good Morning Milano e ce la portiamo dietro ogni anno, ricordiamo che Good Morning Milano nasce nel 2016, nel 2015 e poi nel 2016 nella formula un po' simile a quella che facciamo ora in radio, prima solo sulla web tv di Milano News e ora invece sia in TV su Milano News ma soprattutto su Crystal Radio che ricordo potete ascoltare in dub, potete ascoltare anche sulle vostre autoradio in macchina, a proposito di macchina, a proposito di autoradio, se siete nel traffico lo sapete già, se invece dovete uscire di casa e buttarvi nel traffico ci colleghiamo con la redazione di Luce Verde per sapere la situazione del traffico in questo momento sulla città di Milano. E noi non abbiamo quindi più in questo momento il mio compagno che è appunto ammalato e quindi come tanti di voi, tanti di voi, so che insomma sta girando, sta girando sia la forma influenzale, le prime forme influenzali sia ancora un po' di Covid e da quanto ho capito così no, un po' di analfabetismo funzionale in questo momento così no, voglio dico sempre andate dal medico che meglio perché io proprio dico delle castronerie pazzesche, ma so che insomma abbiamo fatto un piccolo sondaggio qui in redazione dove siamo stati ammalati praticamente tutti e chi ha avuto il Covid febbre altissima al primo giorno, cioè il primo giorno febbre altissima, dopo poi per fortuna cala velocemente e si torna abbastanza in forma nel giro di pochi giorni, ovviamente il presente qui conduttore e direttore di Milano News invece si è strascicato per una settimana buona e più il raffreddore e senza mai essere positivo, quindi non so, forse 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 non si sa se è meglio averlo o non averlo, vabbè comunque ci sono state le elezioni, ci sono state le elezioni a Monza, lo sapete non vi ricordo dove ne parlavamo ieri, hanno chiuso i seggi ieri alle 15 e Adriano Gagliani è il nuovo senatore di quel seggio, ha vinto, ha vinto appunto Adriano Gagliani, leggo dal Corriere della Sera una sua dichiarazione che dice io erede di Silvio era il mio tutto, insomma grande stiva ovviamente tra Gagliani e il Cavaliere Berlusconi, la D del Monza Calcio, ricordiamo appunto il messatore delegato del Monza Calcio, Gagliani batte con il centrodestra Marco Cappato e il centrosinistra conquistando il seggio appunto che fu di Berlusconi, Marina Berlusconi commenta l'accaduto con scritto il posto di papà va a chi ha grandissime qualità e Pier Silvio invece dice la persona giusta, quindi insomma il centrodestra molto contento e unito intorno a tutta questa vittoria appunto di Adriano Gagliani che però è una vittoria diciamo un po' a metà dicono molti perché in realtà ha vinto l'astensionismo, solo il 19% degli aventi diritto al voto è andato a votare e quindi insomma come sempre si dice vittoria a metà ma in realtà la cosa vera è che qui perdiamo noi, perdiamo noi cittadini che non andiamo a votare. Grazie mille dei messaggi che stanno arrivando al mio, al nostro anzi scusate, Whatsapp appunto 3317853555, Alberto ci scrive buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, oggi piove e quindi girare per Milano sarà veramente difficile e beh sì 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 auguri a Lorenzo, sì a Lorenzo lo vogliamo ricordare così e se lo diamo appunto che torni presto qui di fianco a noi e soprattutto che mi porti le sue notizie commentate alla sua maniera che insomma tanti di voi ormai si sono affezionati al buon Lorenzo e quindi gli facciamo tanti tanti auguri anche dalla redazione di Milano All News. È vero oggi piove, previsioni nel tempo che danno pioggia tutto il giorno, ieri sera ho fatto bene vedete, ricordate che ieri dicevo che dovevo andare a giocare a Paldella al campo aperto, ho fatto bene a disdire la partita di ieri, la serie fa questa sera ma abbiamo scelto un campo al chiuso così almeno non abbiamo problemi di acqua, i problemi saranno invece durante la giornata sicuramente in città, il traffico si intensificherà e diventerà il solito delirio delle varie gocce che cadono su Milano ogni volta che piove lo sappiamo diventa un disastro, sta piovendo, non sta piovendo tantissimo, sta piovendo in maniera normale diciamo usuale per l'autunno, speriamo che non invece vada ad arrivare le solite bombe d'acqua che insomma fanno tantissimi tantissimi danni. I Muse, Wheel of the People, i Muse, vi hanno andato la sveglia, ce l'ho fatta finalmente a tirarvi giù dal letto, 7 e 25 minuti siete giù dal letto o no? Dai 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 che bisogna cominciare la giornata anche con questa pioggia, anche con tutto quello che ne conseguirà ma sicuramente sicuramente ce la faremo a fare una grande giornata come sempre perché lo sapete ogni giorno dobbiamo affrontare la nostra città, la nostra Milano nelle sue difficoltà, si cerca di farlo al migliore dei modi, il nostro modo migliore è quello di cercare di farlo dandovi una sveglia tutte le mattine appunto nel migliore delle maniere per cercare di far sì che il vostro sia un giorno migliore. Angiolina Manco ci pensiamo domani, bentornati su Crystal Radio, bentornati a Good Morning Milano tutta la mattina fino alle 9 notizie, informazioni e tanta musica sempre qua appunto su Milano dagli studi di Milano News in Quelli San Siro su Crystal Radio e su Milano News, potete seguirci in diretta ovunque lo sapete ma grazie anche dei Whatsapp che ci state mandando al 331 7853555 grazie a Erika che ci scrive buongiorno finalmente autunno e vedi c'è chi apprezza anche invece questa stagione non è sempre effettivamente quando piace l'estate ci lamentiamo del caldo quando arriva l'inverno ci lamentiamo del freddo forse non ci sono più le mezza stagione così si dice qualche giorno di mezza stagione quest'anno forse c'è appunto questo autunno queste giornate uggiose così sono pioggia su Milano pioggia tutto il giorno piove fino a stasera piove fino a domani pioggia deboli in questo momento si intensificherà un po' nel pomeriggio soprattutto nella zona nord est della città ma dovrebbe rimanere comunque moderata non dovrebbero esserci grossi riversamenti rovesciamenti sulla città mi raccomando state attenti be careful tenete attenti appunto nel vostro girare soprattutto se girate la macchina con motorini o biciclette perché sì c'è anche chi giustamente lo fa e anzi mi rivendica anche la importanza di usare la bicicletta anche in giornate del genere perché giustamente se si decide di usare la bicicletta come mezzo principale di trasporto si possono trovare delle soluzioni ad esempio abbiamo visto un bellissimo post di Simone Lunghi che ha postato la sua Brompton la bicicletta pieghevole davanti alla macchinetta che fa i biglietti della ferrovia e nord e dice combo perfetta bicicletta più treno vai dove vuoi e giri la città tranquillamente e anche in maniera ecologica e soprattutto sei indipendente cioè puoi muoverti dove vuoi una volta poi sbarcato con il treno o con la metropolitana nei quartieri o nelle città che ci interessano continuiamo con la musica questa vi dà la sveglia alle 7.36 vi tiro giù dal letto o vi faccio salire bene in macchina o sul tram con questa hey cdc hey cdc high way to hell finalmente sono riuscito a svegliarvi questa mattina avevo voglia proprio di sbattervi giù dal letto tirarvi giù e buttarvi nella mischia della folla perché questa mattina è così che va con la pioggia che si sta intensificando la sua città di Milano e dovete combattere con questa maledetta città che ogni tanto ci dà qualche difficoltà ma 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 come prima dicevo punto c'è gente che decide invece di usare la città e usufruirne in maniera sostenibile ad esempio con le biciclette e questa sera proprio per ribadire basta morti in strada ci sarà un'ulteriore manifestazione o come la repubblica la chiama una pedonalizzazione tra virgolette vabbè insomma dalle 19.30 di giovedì 26 ottobre quindi già potete organizzarvi e magari giovedì non piove quindi non so adesso poi vedremo manifestazione per sensibilizzare contro l'aumento di incidenti mortali pensate che dal primo settembre sono sette le persone a piedi in bici uccise da mezzi pesanti auto o moto in città dicevo giovedì 26 ottobre 19.30 porta romana sotto l'arco di porta romana tutti in bicicletta ci si aspetta questo appunto piazza medaglie d'oro vedrà bloccato il traffico dalle 19.30 per questa protesta silenziosa non credo anzi con tutti i campanelli che suoneranno conoscendo i personaggi e conoscendo un po' il movimento ciclistico milanese ma che appunto vuole riportare l'attenzione anzi mantenere molto vigile l'attenzione su quello che sta succedendo sulle nostre città ancora oggi adesso non ve lo leggo nel dettaglio ma sia Corriere di Milano che Repubblica Milano dà notizia dà notizia di due o tre incidenti di cui alcuni anche molto gravi avvenuti nella notte si scrive poi in realtà si va a vedere anche tra sera e notte avvenuti appunto su Milano raccorsi con vittime appunto pedoni o ciclisti questa è Milano bisogna stare attenti ve l'ho detto e quindi la pioggia continua a cadere su di noi sulla nostra città alle 8 e 0 7 in questo minuto appunto qui a good morning Milano da Repubblica Milano leggiamo notizia invece abbastanza allarmante non parliamo di meteo parliamo invece di società di welfare del tessuto sociale di questa città a Milano 1697 bambini e ragazzi senza dimora una persona su tre ha un reddito inferiore a 15.000 euro questo l'allarme di Save the Children il rapporto fare spazio alla crescita analizza le condizioni di vita dei minori che abitano nelle 14 città metropolitane d'Italia le zone dove c'è più marginalità a Milano sono Forza Armate, San Siro e Baggio zona ovest qui intorno alla nostra sede per intenderci sono fattori di svantaggio socio-economici ed educativi appunto nel municipio 7 l'area di Forza Armate San Siro e Baggio dove il 17,6% degli abitanti ha meno di 19 anni e tra questi il 28% è costituito da ragazzi stranieri under 14 oltre un residente su tre cioè il 36,2% ha solo la licenza media e soprattutto questo dato è interessante e allarmante il 31% di chi ha tra i 15 e i 64 anni è disoccupato questi sono i numeri di un grosso problema appunto di un allarme che lancia Save the Children con questo rapporto fare spazio alla crescita vi invito a fare un giro anche sul sito di Save the Children dove si possono appunto trovare tutte le informazioni riguardo a questo studio abbiamo parlato anche nei giorni scorsi di povertà assoluta e povertà relativa qui si parla appunto di condizioni difficili molto difficili per abbiamo detto un residente su tre il 31% di chi ha tra i 15 e i 64 anni cioè praticamente chiunque è in età lavorativa il 31% di queste persone soprattutto nella zona che abbiamo detto Forza Armate San Siro e Baggio è disoccupato e quindi con tutto quello che ne consegue anche il dato dove il 28% dei ragazzi under 19 è costituito invece da ragazzi stranieri under 14 che quindi hanno anche una difficoltà nell'inserimento e che sicuramente bisogna attenzionare per riuscire sempre di più a far sì che questa integrazione, che questo inserimento, che questa mescolanza oserei dire anzi che è più bella, una sorta di cocktail, il cocktail viene bene quando si mischiano bene gli ingredienti non quando gli ingredienti rimangono divisi tra di loro, possono stare nello stesso bicchiere ma se non sono ben miscelati non funziona bene il cocktail, quindi devono essere ben miscelati e così deve essere anche una società moderna, una società che funzioni nella nostra città e soprattutto una città che guardi davvero a non essere solo legata alle sue tradizioni che sono sacrosante perché anzi vanno salvate e soprattutto lo sapete quanto qui a Cristalradio anche io, la musica di Gaber e tutto quel mondo e tutto il mondo di Cocchi e Renato insomma gli annaci, lo sapete benissimo quanto lo difendo e quanto anche difendo invece l'arrivo e lo spazio che deve avere anche l'ultimo milanese arrivato, così lo chiamano nel senso tutti i milanesi hanno diritto di essere milanesi e di rimanere qui Milano poi è quella città un po' strana, lo sappiamo, ci si innamora di questa città nonostante la si odi poi, perché sappiamo che non è una città semplice che ci digerisce facilmente, spesso e volentieri anzi ci mastica a noi milanesi e un po' ci sputa così lì per terra e dobbiamo riuscire a risalire sempre la crina ma questa è la grande città che ci ospita, è la grande città che tutti noi insieme possiamo costruire ogni giorno, cercare di migliorare continuiamo con la musica, loro non sono milanesi, sono di Torino sono i Subsonica con Istrice Istrice, Istrice e Subsonica alle 8 e 15 minuti quest'oggi è una giornata, stavamo controllando il meteo e abbiamo visto che insomma la pioggia continua a scendere continua a cadere sulla città e allora per cercare di far sì che la giornata sia meno uggiosa, meno complicata per tutti voi andiamo con ancora un po' di musica questi sono, ebbè è un gruppo di quelli che si sente poco in giro ma noi lo mettiamo spesso, noi lo mettiamo spesso perché c'è un nome strano, però vabbè si arriva a dirlo loro sono i Chamba Wamba, ma il problema è la canzone Thum Thum Ping Chamba Wamba, Thum Thum Ping, è impossibile da leggere se no lo fanno apposta per noi speaker radiofonici di fare questi titoli che sono impossibili ma loro sono i Chamba Wamba 1997, vi ricordate? cosa stavate facendo nel 1997? c'eravate già, prima domanda c'eravate già nel 1997 oppure no? cosa facevate nel 1997? io cosa facevo? facevo le superiori, credo sì, avevo 17 anni quindi sì facevo le superiori e andavo in giro un po' cappellone ascoltando i Chamba Wamba mi ricordo quando uscì questo disco 3317853555, lo sommo di Whatsapp grazie a Carlo per il suo Whatsapp dicendo buongiorno Cristallini pioggia a catinelle ma nelle orecchie ho Cristal Radio grazie mille Carlo gentilissimo, gentilissimo speriamo insomma questa mattina di riuscire a fare il nostro compito anche se mi è difficilissimo lo sapete perché non ho il mio fido scudiere qui al mio fianco l'uomo delle news, l'uomo dell'informazione di Good Morning Milano appunto Lorenzo Masieri che è ancora ammalato e che tornerà, speriamo a breve, con noi oppure non so, adesso gli mando la visita esiste la visita radiofonica nel senso gli mandiamo il signor mister radio Italia giudice della radio italiana che va da lì e gli dice oi allora, vieni a lavorare o no? testi l'account e vieni a lavorare vediamo, vediamo no ma poveretto, l'ho sentito, ieri stava proprio tanto tanto male quindi tanti auguri a Lorenzo Masieri di pronta guarigione oppure come dicevo prima che la faccia finire nel senso non lo facciamo fuori così lo smette di soffrire una punturina e via nel caso no, povero Lorenzo, scherzo scherzo sto scherzando anzi, non si scherza invece con la musica qui su Cristal Radio non si scherza mai con la musica qui su Cristal Radio lo sapete, ogni ora c'è il Cristal History ma quest'oggi voglio regalarvi qualcosa di veramente magico che magari è tanto che non si sente sì, ci vuole un'introduzione giusta e doverosa per quello che sta per andare in onda fra pochi secondi è un pezzo della musica, pensate, 1984 è un pezzo, una pietra migliare della musica rock e non solo mondiale e di uno dei gruppi più grandi e più importanti di quel periodo degli anni 80, 70 e 80 anzi, grandi pezzi una voce inconfondibile delle musiche arrangiate come nessun altro forse sapeva fare e tanto che infatti avevano una corona in testa perché loro sono i Queen e in una radio non si può che mandare Radio Gaga sui Queen 8 e 21 minuti Queen Radio Gaga su Cristal Radio Coez e Fraquintale che colpa ne ho 8 e 30 spaccate 8 e mezza si riparte con l'ultima mezz'ora più o meno di trasmissione insieme all'ospite del martedì che è Valtaccherubini consulta per i Free Milano buongiorno a tutti buona giornata un po' piovosa diciamo anche l'occasione oltre che per fare cose internamente in luoghi di lavoro a scuola ma anche magari per andare a vedere qualche mostra qualche occasione c'è sempre in essere il diciottesimo Foto Festival che chiuderà a fine del mese il 31 di ottobre quindi ci sono tutta una serie di opportunità che vale la pena andare a vedere milanofotofestival.it il sito di riferimento e quindi si può visitare si può utilizzare Milano tranquillamente quando piove non siamo a Bologna che possiamo girarla a piedi sotto i portici ma c'è tanto da vedere comunque a Milano qualche portico ce l'abbiamo anche noi ne abbiamo visti qualcuno ad esempio a Trenno anche nelle periferie ci sono appunto i portici ci sono i portici si può passeggiare sotto quindi a Trenno sicuramente c'è una certa animazione più da da paese ecco da borgo da borgo come piace chiamarli a volte a volte paesi ma sicuramente ex comuni quello sicuro questo sicuramente ex comuni Trenno e uniti Trenno e uniti infatti perché parliamo degli ex comuni perché ci stiamo avvicinando a questo dicembre centenario in cui sarà proprio il centenario il giorno del centenario no? sì è il giorno del centenario ecco è il centenario dell'aggregazione degli antichi comuni e quindi della soppressione degli antichi comuni ma è anche la nascita delle periferie le periferie urbane che si connotano secondo anche quello che è stato il libro bianco della commissione europea del 2001 da due aspetti la mancanza di identità e la mancanza di una organizzazione amministrativa adeguata ok per quanto riguarda l'identità per quanto riguarda l'identità mi sembra che Milano l'identità non è proprio per noi perché appunto Milano siccome è andata per aggregazione di antichi comuni in questo caso a partire dai corpi santi prima nel 1873 poi nel 1923 ricordando anche Turro perché Turro è un antico comune che venne diciamo così assorbito ma si consegnò a Milano nel 1918 eravamo in in clima da prima guerra mondiale quindi c'erano un po' di problemi per cui non dimentichiamo l'antico comune di Turno e poi gli altri 11 comuni che vennero aggregati chi diciamo così mano militare chi consenziente chi meno consenziente e sicuramente non hanno questi territori che ormai sono l'80% del comune di Milano non hanno l'amministrazione perché era stata tolta appunto 100 anni fa e quindi da qui il concetto di periferia un concetto che non è che è una realtà manca sono stati introdotti negli anni 68-69 con i decentramenti i consigli di zona allora ma sono sempre rimasti un po' una cenerentola una lettera morta che appunto sono il problema strutturale di un'amministrazione di una metropoli seppur piccola come Milano perché Milano non si riesce a governare dal centro lo vediamo tutti i giorni e poi dice quella parola famosa policentrica che ogni tanto salta fuori siamo o non siamo policentrici lo siamo stati forse ma noi possiamo andare al ventesimo di Giorgio Gaber un'idea un concetto un'idea finché resta un'idea è soltanto un'illusione e quindi sì possiamo noi possiamo fare tutti i concetti che vogliamo il problema poi è confrontarsi con la realtà se vogliamo una Milano policentrica ci vuole anche un'amministrazione policentrica un'amministrazione policentrica che se teniamo conto che il bilancio di spese ordinari ma tanto per avere un indicatore del comune di Milano è più di 3 mila milioni di euro teniamo conto che i nove municipi tutti assieme hanno una capacità di spesa di nove poi possiamo dire ma ne hanno fin troppo troppo poca questa è la realtà il 3 per mille questa qui è l'incidenza che hanno e quindi chiaramente con una impostazione organizzativa di questo genere di passi non se ne riescono a fare avanti perché si dice fare sistema ma il primo che non fa rete sul territorio esattamente è la struttura comunale ma non solamente a Milano cioè proprio un'impostazione centralistica e quindi noi ci troviamo ad avere numerosi servizi sul territorio che si muovono scoordinati alcune volte fanno anche dei doppioni e molto spesso ci sono delle scoperture poi c'è un concetto un pochettino strano dove i problemi li dovrebbe risolvere qualcun altro il terzo settore il volontariato ma non è così cioè concettualmente nella Costituzione italiana è stato introdotto anche un po' di anni fa il concetto di sussidiarietà che cos'è la sussidiarietà è che se io nel mio piccolo riesco a risolvere i miei problemi e li risolvo punto e basta non ho bisogno di delegarli a qualcun altro il problema è che io delego a qualcun altro dei problemi che non riesco a risolvere invece la situazione qui è capovolta per esempio il comune fa tutta una serie di servizi poi non ce la fa ci pensa qualcuno che è che è l'ambulanza è l'emergenza per cui noi ci troviamo in uno stato strutturale di emergenza paradossalmente ecco per cui bisogna un pochettino invertire l'ordine dei fattori e sul territorio ci sono tantissime realtà che però appunto essendo un concetto centralistico poi quello che non si farete è proprio sul territorio non parliamo di sistema ma ne parleremo hai nominato Giorgio Gaber poco fa guarda non lo sapevi e c'era in programmazione proprio Giorgio Gaber non la canzone che hai nominato tu ma un'altra che è storica e mitica del signor G stiamo parlando di Una fetta di limone qui alle 8.36 minuti Giorgio Gaber Una fetta di limone Una fetta di limone Giorgio Gaber anzi questa era adesso diremmo joint venture diremmo oppure featuring perché in realtà è una canzone di scritta da Enzo Iannacci che è poi appunto interpretata in questo caso da Giorgio Gaber ma succedeva spesso qui appunto si mettevano insieme all'epoca si chiamavano gruppi adesso si chiamerebbero joint venture progetto o featuring ma insomma stato di fatto che quando ci si metteva insieme veniva fuori delle grandi cose ma lì così secondo me era una comunità di artisti eh sì una rete si ritrovava c'era il derby sicuramente che è andato allo sfacelo mettiamolo in questa maniera ma è stata proprio una fucina di tutte queste persone che poi hanno arricchito creativamente la nostra vita quotidiana possiamo dire molti arrivavano anche dalle periferie tra l'altro portavano un po' quel racconto oppure c'era questa cosa interessante di chi magari nelle periferie non arrivava da lì ma le sapeva raccontare molto bene diciamo anche che per certi aspetti le vivevano noi abbiamo abbiamo in questo periodo qui tre personaggi del mondo artistico Testori Gaber Iannacci c'è stato anche recentemente una mostra piuttosto interessante dove il tema è esattamente il loro il loro racconto il loro vissuto nelle aree periferiche e quindi Testori Al-Mac Mahon Iannacci poteva andare Subaggio Giambellino con il Cerutigino per Gaber e hanno raccontato questa vita quotidiana con la loro modalità ma una loro modalità proprio di alla fabbrica del vapore questa mostra che aveva poi una serie di iniziative non solo la mostra ma che aveva proprio una lettura delle periferie periferie che si sono diciamo così modificate ma che rimangono sempre un lontano ma nemmeno un lontano ricordo rimangono un eccello e un ambiente sconosciuto perché questo qui è il tema fondamentale che abbiamo visto con ormai oltre 50 appuntamenti in giro per biblioteche scuole associazioni proprio per raccontare la storia del centenario è che i milanesi non conoscono Milano e quindi ognuno conosce un pochettino il proprio posto più i luoghi del centro il resto è sconosciuto per quello che è importante ricostruire un ABC del territorio milanese e in particolare delle periferie che sono l'80% di questo e quindi l'ABC parte con Assiano Basmetto Cavriano quando diciamo queste cose rimangono tutti lì e dicono ma di che cosa stiamo parlando per capire questo dobbiamo tornare indietro nel tempo tornare indietro almeno al 1923 se non prima e quindi capire meglio cosa significa questa annessione e ci sono degli incontri appunto che hanno a che fare con il centenario degli antichi comuni giusto? ma allora ne abbiamo fatti più di 50 sia promossi diciamo una serie interessante sicuramente sono state le pubblicazioni delle edizioni meravigli con due libri di Edro Bicchetti proprio in questo 22 2022 e 2023 uno che riguarda i comuni aggregati nel 1923 storia e storia degli antichi borghi milanesi l'altro invece che è più recente è appena stato abbiamo appena fatto una presentazione che appunto riguarda il comune dei corpi santi l'antico comune dei corpi santi appunto aggregato a Milano nel 1873 dopodiché c'è stato anche in corso di quest'anno l'almanacco milanese 2023 che è stato dedicato ogni mese a uno dei comuni aggregati ecco questo qui è un pacchetto ma abbiamo stilato un elenco che oltre a otto libri che riguardano la città in generale poi ci sono altri 89 libri che parlano di singoli antichi comuni quartieri borghi a seconda dei casi ecco questo è sicuramente un patrimonio da utilizzare sono approfondimenti storici che servono per la didattica scolastica ecco quello del tema della scolastica la didattica scolastica è un tema che tiri spesso in ballo e che è interessante perché tu dici noi studiamo nelle scuole milanesi sappiamo tutto sugli assiro babilonesi ma non si studia mai a nessun livello non dico dall'asilo fino all'università non si studia mai la nostra territorialità che non vuol dire essere legati appunto a chissà quale nostalgia di un tempo andato ma per capire e magari progettare e programmare un futuro ma diciamo che non è una caratterizzazione milanese questa è sempre un po' generale perché Agostino Petrello su uno dei suoi testi periferici di Genova diceva che molti amministratori del comune di Genova confondevano un quartiere con un altro che distava due o tre chilometri ma è esattamente quello che è successo anche a noi quando è stato introdotto il centro vaccinale a Trenno cosiddetto chiamato Trenno chiamato Trenno e tutti quanti pensavano che fosse al parco di Trenno che stava due chilometri e mezzo di distanza ecco quindi questo dato di non conoscenza un altro dato fondamentale secondo me che lo porto sempre ad esempio San Cristoforo la chiesa di San Cristoforo la stazione di San Cristoforo la metropolitana di San Cristoforo quale sia San Cristoforo non si sa bene poi alla fine ci si perde lungo il naviglio ma noi pensiamo anche a una delle ultime metropolitane delle fermate delle metropolitane della M4 ripeti a parte che mi sembra siccome la logica è quella di chiamare la metropolitana con la via che la traversa ecco qui così c'è questo ripeti che sarà sicuramente un personaggio importante nessuno lo mette in discussione però lì così cade proprio via Cavriana appunto che nella nella zona di di Cavriano e quindi richiama storicamente ma il problema è che appunto si fanno le cose piuttosto separate per aree e quindi uno che prende determinate decisioni non ha una visione complessiva e inserisce anche quello in un processo organizzativo che può essere anche banalmente la toponomastica che non è un aspetto banale ma l'abbiamo visto prima chiamare il parcheggio di trenno trenno è stato dal punto di vista ma non toponomastico operativo è un errore perché doveva essere chiamato parcheggio Figino è a 300 metri di distanza da Figino probabilmente noi leghiamo Figino all'inceneritore oggi termovalorizzatore e quindi ai tempi di Expo non era molto bello legare un parcheggio con questo nome era più bello così dice un pochettino la storia era migliore chiamarlo trenno parco di trenno è solamente che poi fai danno c'erano 4 chilometri nel parcheggio e ci sono 2 chilometri e mezzo di distanza non è proprio la stessa cosa per chi viene dall'estero probabilmente faceva lo stesso è glamour ma noi dobbiamo stare a una realtà dopodiché possiamo scoprire tranquillamente che ci sono tutta una serie di posti che andarle a vedere sono molto più interessanti di come vengono raccontati il tema del centenario ha cominciato un po' a mettere in evidenza ma oggi bisogna fare un'iniziativa strutturata semplice ma di informazione scolastica e andiamo con un po' di musica allora Gimme some loving Blues Brothers e poi torniamo ancora a parlare di periferia beh Blues Brothers ne sapevano di periferia ah se ne sapevano Blues Brothers Gimme some loving 8 e 50 minuti ancora qui con Walter Cherubini questo oggi anzi grazie Walter di essermi anche arrivato in assistenza perché appunto non essendoci il buon Masieri incominciavo a dare i numeri a parlare da solo quindi grazie di essere arrivato così siamo in due no 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 anzi i numeri magari li diamo però li diamo corretti e soprattutto li dà corretti Walter quando appunto parliamo di periferie adesso stavamo un po' guardando sull'internet ma vedevamo che in realtà una cosa che magari i milanesi appunto i milanesi non conoscono Milano non la raccontiamo nelle scuole e tutto però invece ad esempio sulla mappa di Google Maps vengono riscritti giusti molti toponimi della Milano che fu e che ad esempio leggiamo dei quartieri tutti conoscono Dergano ma magari pochi conoscono Derganino che è un po' a sud no giusto a cavallo a sud diciamo che a est no dico a sud di Dergano giusto è appena sotto sotto Dergano comunque nell'area di Dergano diciamo vicino a Dergano appunto poi ho letto di un Montalbino cosa che io non lo conoscevo Montalbino vicino alla Maggiolina Maggiolina la conoscevo e poi altri diciamo andiamo in isola Segnano 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 molti dicono andiamo in isola attenzione perché l'isola arriva fino a un certo punto poi sopra c'è La Fontana che è famosa anche per il teatro La Fontana e anche devo dire per il ristorante La Fontana che fa una pizzeria al trancio buonissima c'è sempre vedi come si si collega al territorio ma diciamo che la toponomastica non è che sia inesistente anche quella nuova adesso pensiamo per esempio all'Acqua Bella che non è che si conosca particolarmente il tema è quello di avere una visione complessiva cioè se noi vogliamo fare vivere la città da una parte ma anche governare la città possiamo andare un pochettino a quelli che rispondono a scuola e sanno qualcosa e cercano di farla franca pur magari essendo impreparati ho fatto una carriera ho fatto una carriera su quello però il tema è quello di anche porre strutturalmente la condizione per affrontare in maniera complessiva le cose quindi conoscere la toponomastica della nostra città è il minimo sindacale se uno vuole intervenire sulla città altrimenti che cos'è che accade che ci sono le emergenze che sono continue e uno corre dietro alle emergenze ma che cosa vuol dire questo che da una parte corre dietro i problemi che molto spesso diciamo sono molto più veloci di noi e arrivano sempre primi e rimangono sempre lì in secondo luogo non si utilizzano le risorse che ci sono sul campo perché non conoscendo il campo non sappiamo dove ci sono problemi ma anche risorse noi diciamo sempre sull'aspetto culturale dove c'è una grossa enfasi ma la periferia l'area fuori dal centro è costellata di presenze culturali ce ne sono almeno 400 ci sono teatri ci sono biblioteche ci sono musei ci sono anche i cori c'è di tutto che si può utilizzare per animare i territori il problema è che manca proprio questa visione complessiva un governo che non vuol dire che c'è il comune che fa tutto decide tutto ma il comune proprio in questa logica sussidiaria è quello che ha una visione complessiva e dove c'è lo aiuta e dove non c'è interviene ecco invece l'impostazione in generale non è quello è legato ognuno ha la propria competenza del proprio settore io faccio il mio punto faccio il mio ma poi questo mio molto spesso è un pochettino come una pezza che si mette un buco ma come dicono è peggio la pezza del buco adesso senza essere negativista da questo punto di vista però se iniziamo a cambiare passo il cambiare passo sicuramente daremo un contributo con l'iniziativa che facevamo già pre-pandemia a scuola di periferie a scuola di periferie che quest'anno 2023 2024 riprenderemo in maniera piuttosto strutturata con alcune sedi stabili che sono al al nord Niguarda a sud all'ostadera a est a Quartogiaro a est all'ambrate e a ovest a Quartogiaro queste qui sono sedi stabili di confronto bimestrale dove chiunque vorrà approfondire in maniera continuativa il tema delle periferie ma anche per lanciare delle proposte a livello cittadino si potrà incontrare appunto perché c'è una regia cittadina in secondo luogo ci sono anche delle sedi tematiche le sedi tematiche dove ci saranno qui a Milano News quello che è l'informazione sul territorio magari con i giornali di zona eccetera perché anche dare un'informazione territoriale comincia a essere una cosa importante deve essere anche strutturata e anche aiutata diciamo ma per esempio a Baggio ci sarà anche il punto di riferimento di chi fa i doposcuola perché i doposcuola sono quella realtà ma ci sono sì sono importanti nessuno sa quanti sono ma poi ci sono anche delle modalità operative per chi per esempio ha contratti di locazione occupa spazi comunali dove ci sono i bandi si impara tanto sulla scuola di periferia si impara anche a capire meglio la periferia Walter grazie siamo arrivati alla fine quest'oggi dobbiamo chiudere così perché sono già le 8.55 in questo istante se no qui ci tagliano grazie troviamo tutto sul sito di consulta periferia buona giornata sì più o meno aggiornato anche con appunto gli incontri del centenario che ce ne sono già con questo fine settimana perfetto e allora adesso andiamo invece a Nolo o meglio a Loreto Paradiso grazie a tutti